Ma oggi le mafie, oggi è facile corrompere un pubblico ammissatore, un impiegato di pubblico servizio, per pochi soldi. Perché oggi chi vent'anni fa faceva la settimana bianca, oggi non è disposto a rinunciare e quindi si prostituisce. E quindi questo abbassamento della morale dell'etica porta ad un avanzamento delle mafie, a una penetrazione fortissima delle mafie nella pubblica amministrazione. Per l'Andrangheta è un conto a parte, è un discorso a parte, perché lo era da prima, dato che nel 70, con la creazione della prima dote della società maggiore della Santa, era possibile, e oggi è possibile ancora di più, che un affiliato all'Andrangheta può essere, può far parte anche di loge massoniche deviate, all'interno delle quali è possibile trovare funzionari pubblici, mondo delle professioni, forze dell'ordine, magistratura. Questo è il salto di qualità dell'Andrangheta dal 70 ad oggi che nessuno ha mai voluto capire. Perché se le mafie sono così forti oggi è perché per 40 anni abbiamo narrato una mafia di straccioni al massimo di sequestratori di persona, quando già nel 70 avevano rapporti col mondo delle professioni.